La tratta delle persone è un crimine contro l'umanità. Dobbiamo unire le forze per liberare le vittime, per fermare questo crimine sempre più aggressivo che minaccia oltre alle singole persone i valori fondanti della società e anche la sicurezza e la giustizia internazionale, oltre che l'economia, il tessuto familiare e lo stesso vivere sociale. Lo ha detto Papa Francesco nel discorso ai nuovi ambasciatori di Algeria, Islanda, Danimarca, Lesoto, Palestina, Sierra Leone, Capoverde, Burundi, Malta, Svezia, Pakistan, Zambia, Norvegia, Kuwait, Burkina Faso, Uganda e Giordania. È necessaria una strategia coordinata ed efficace, ha detto il Papa. Occorre fare di più, ha insistito, per bloccare il fenomeno della tratta, per proteggere e assistere le vittime di questo crimine, non di rado collegato al commercio delle droghe, delle armi, al trasporto di migranti irregolari, alla mafia. Grazie a tutti.